no no ma si mai si entro in quel loop ma è finita che voglio giocare dove sono i nostri amici esatto io sto già dentro peraltro ho dovuto fare un aggiornamento di gta che non so se hai fatto le persone tt2 ci fa sempre delle battute abbastanza sulle armi sì poi non proprio da tt2 mi danno un po fastidio onestamente tt2 che avevo invitato eh ma ha detto sì sì probabilmente ce sto eccolo tt2 bravo no basta finirla come puoi vedere c'è sta già raiquaza in cielo è la gara dell'ultima volta giamma no no quindi la sapete già fare voi no non la sapevamo fare neanche l'altra volta forleo ma perché forleo però veramente è un po' brutto no eh la madonna è puttanella eh sì io sono andato a far compagnia nel cielo di con god's dread beh forleo ma io con l'amore del mondo non ci voglio mai credere che tu prendilo eh porca madonna marzo è un coglione ma sei un coglione ma vedi che lo lisci ma non ti volevate dal cazzo ma il triangolo per chi l'hanno creato per tiziano ferro prena scusa la canzone del triangolo era Renato Zero non era tiziano ferro fratello la prima è dei polli la prima tranquillo eh però sfortunatamente non hai fatto i conti con l'elenco di forleo Gianmarco Rocco beh sì ormai Marzolo sai che ho notato che stiamo perdendo molto rispetto da parte delle persone ma io non penso di averlo mai avuto ma ti dico la verità non direi così Marzolo ce l'hai avuto però lo stiamo perdendo cioè ma si vede già da Gianchino cioè Gianco Gianco che c'è piscia per me beh ma Gianco Gianco va massacrato di mazzate ma qua ma io ho l'unico motivo e momento della vita mia in cui avevo rispetto è quando avevano paura cioè il regime del terrore era il regime del terrone Bruno anche del terrone soprattutto e ma Nuzio se parli parli per di cazzate è una cosa incredibile ma ce l'hai una cosa buona ah il fenomeno è una cosa giusta e fino a mo già stai narrando una hit per il momento per ora è l'essere perfetto continua magari hai anche il cazzo piccolo eh sì allora sei veramente il mio uomo per il momento sei cell third form proprio si era capito ma tu sei un anime enjoyer ma perché? tu sei un anime enjoyer madonna penso sia la cosa che ho di più al mondo madonna mio fratello porco dio io ci tengo a dirvi una cosa la mia macchina ha il turbo infinito no no ma si fixa ma si fixa frate sto letteralmente sotto crocodile lo so sembri ubriaco sì sì sono ubriaco no ragazzi ma che ah sì no niente non si è fixato sì comunque c'è una cosa illegale porco dio una cosa illegale sì beh fai un aggiornamento dell'applicazione non funziona più l'applicazione ma che sei una mongolfiera letteralmente che cosa avrà voluto dire quello che ha detto ma lo so una mongolfiera ma non mi continua a dire che è bannato eh bro è perché è una merda quella funzione ma il punto era nadi mi fa sì o no e io gli faccio sì e lui banna ma si o no marzo no no si o 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 no ragazzi il vero OG dell'esdorgo corso che soffre così Grand Theft Auto 5 basta no mi alleno imbarazzate inguardabile quasi oserei dire ci si allena ci si allena certo ci hanno 66 anni ormai forse è un po' siamo un po' in ritardo è un po' tardi forse per iniziare a giocare a pallone però vabbè vabbè io però sono sempre dell'idea che no non mi dici che non ci arrivo no raga ah ci sono arrivato e so sempre dell'idea che se veramente in Serie A ci sono arrivati gente come Bruno Perez non vedo perché non ci potremmo arrivare eh capito non è mai troppo tardi sono d'accordo non perdete mai la speranza signori forleo non arrivare bravo forleo bravo bravo vedi sei un bravo piscale ovvio esisto eccoci era fatto da un lipao mega skill questa è portoghese portugase mega skill o brasiliano o brasiliano se parti però o brasiliano mamma mia che succede o falo portugase considera che tecnicamente è meglio no perché rimangono attaccate sì 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 sono molto ho completamente lasciato i warride forza così è un po' problematico peccato ragazzi eccoci qui il maestro un freccione vabbè eh sì non avevo detto niente di male ragazzi io non voglio per nessun motivo essere cattivo ma la gara è al momento abbastanza fastidiosa almeno per me devi andare dall'altra parte ah 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 niente ho preso il freccione il checkpoint che c'è è finto devi iniziare dall'inizio come è finto ma ragazzi devi andare sempre su warride già per gli 11 i brasiliani e portoghesi i brasiliani pure su clash royale sono dei tumori di merda porco dio vero ma tumore ci sarai tu italiano bastardo non insultare la mia razza ma marzo io ormai sei onesto ma tu anche sei italiano cioè io non so io non sono italiano marzo mentire così a se stessi è fai poter creare delle situazioni un po' complicate mamma manù porco dio sei il re ma ma che cazzo devo fare ah cazzarola raga c'ho un problema sono sfortunatamente troppo forte no marzo non te lo giuro il warride manù ma questo è un warride ti raise a point you or let you down or let you down la bfile sono cojone devo morire no no non è vero a me piace il modo in cui vivi tu già ma io spero che nella tua vita tu abbia una ma veramente proprio devi soffrire no marzo secondo me sono tre triangoli devi trovare quello dove non c'è il muro invisibile no ma che stai a dire no devo farlo in prima persona ok non passa non passa non passa non passa non passa cioè sei letteralmente una persona subdola che fai perché mi devi superare sull'esterno che stai una volta che penso una schedina grazie a quella merda dell'aiuto ecco no il più bello ragazzi non ci si arriva te l'ho detto ragazzi non ci si arriva proprio è impossibile basta non ci si arriva non ci si arriva ma non ci sono ma è fatto apposta professional non ci sono ma è fatto apposta col schumacher ho fatto però è come dico io è un fire ma raga basta no ragazzi vi piacciono le fighe dipende dai giorni perché bisognerà centrarne almeno tre no che cos'è sta roba eccole le fighe no marzo se siamo rovinati marzo porco di dio letteralmente rovinati ma io non riuscirò a fare questa cosa che avete fatto questa macchina che è che io onestamente spero che ti scoppino la madre quando avete bustato riga per fare qualcosa è un po' dopo io ho già avanti a far dirlo bisogna prenderlo con un saltino così ma che cazzo si c'è giuro che il primo checkpoint lo prendo eh luca grazie per i tre ve lo giuro anonimo grazie per il sapassamo ma non so ero entrato nel verde fornè ho deciso di no era inaccettabile per lui fornè io guarda onestamente l'accademia della crusca dovrebbe iniziare a creare dei nuovi vocaboli per quanto è puttana tua madre ce l'ho fatto dopo due tentativi e quel coglione ma è dovuto venire roba questi ali sono veramente inutili no no ma già sto per andare sott'acqua mi sono cagato in mano pensavo che l'avessi trollato no era verde il migliore no no ma non sono ali ma non bisogna aprire le ali no no chi è fornè fornè ma perché ho voglia di vedere tua madre premessa a pecora con 18 cazzi che la strozzano non ci sono arrivato mi ha agito zino mi ha agito tantissimo lo prendo lo prendo lo prendo first try eh sì devi vai più in alto nel tubo che devi prendere un checkpoint dentro poi ti giri cambi il senso di marcia con quei cosi bianchi e riesci dal checkpoint c'è riesci dal dal war ride dove sei uscito prima mia madre una troia e poi devi fare tutti i cambi war ride avanti gozred ma tu in quale punto? sì restiamo altri 8-9 minuti e lo prendo adesso adesso iniziamo tutti a fare un server rp noi siamo tutti degli amanti peraltro del mondo ma ragazzi è un tumore questa roba è un tumore ma più che altro perché cioè secondo me l'unico modo per girarsela dentro è effettivamente usare il turbo sì 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 perché perché la macchina non ha aderenza al muro cioè è una macchina è una macchina di merda quella che ti viene offerta dal videogame videoludico palle porco dio ah ma raga ma l'avete visto cioè l'ho fatto già 3-4 volte cioè non è che come lo sto facendo non funziona è che ti deve riuscire strepi sotto siccome ho una vita mangio ti stavo dando una mano incredibile troppe mani cosa che mi sa che mi sono girato mi sono girato dio cane dio stro oddio oddio c'è un'altra possibilità per retocco un'altra possibilità lo fammo così ma certo se giriamo da grazie Leo grazie mille grazie di 9 non capisco come non capisco come ci si giri così tutto di fila meno di due ore non ce la fai merda non sono d'accordo non hanno mai conosciuto Forleo e Bust allora raga io dico una cosa guarda non c'è bisogno nemmeno di dirla perché sono stato distrutto letteralmente da Francesco Marzano che io giustamente era la prima volta che mi riuscivo a girare Marzano tranquillo non ce la faccio non li voglio tutti vedere sotterrati mi sono girato pensa se mo che ti rinvita lo fai è quello che stava dicendo prima prima che io lo toccassi ah che lo stava per fare si ha detto guarda se mo mi riesce adesso ho occhio che lo sta facendo veramente eccolo penso possa rinvitare anche che sta in game cioè lui è uscito da quello che ho visto comunque è invitato io sono nelle fiche rimarrò nelle fiche allora niente quando avevo imparato porca madonna eh oh peccato cioè è incredibile è assurdo vorrei veramente sconvolgermi per quante ciole prendo in gola il Cristo santo Forle ci ha invitato uomo di merda vai ci ha invitato Forleozzi vai invita e dopo un anno e mezzo oddio ti dimentichi il cecchia in alto e dopo un anno e mezzo incredibilmente quittano una gara di level asian infatti ve lo stavo per chiedere oddio sono dell'avviso che prima o poi l'avremmo fatta però te lo avresti visto solo questa cioè non avremmo fatto dell'altro perché avremmo finito questa anche a me si opera